Come andiamo? Fa piacere vedere un pubblico tollerante questa sera, io sono una persona molto tollerante, odio i negri, i terroni, gli zingari, i cinesi, gli ebrei, il razzismo, l'incoerenza, gli elenchi. E non supporto gli americani perché sono grassi, ignoranti e generalizzano sempre tutti, allucinanti, e lo si legge in faccia che giudicano gli altri dalle apparenze. Gli americani, io lo si legge in faccia, gli americani discriminano le minoranze, sti finocchi di merda, che poi tra l'altro l'America è un grande melting pot, non è che puoi scegliere la tua razza, se sei nero sei nero, se sei bianco sei innocente. Io vedete, no serio, vengo da una famiglia di sinistra, sono stato educato in una certa maniera, non sopporto le persone che chiamano i neri negro, o i cinesi muso giallo, o i gay frocio, o i filippini con una qualsiasi di queste espressioni. No, non ho niente di personale contro i filippini, a me stanno sul cazzo anche i normodottati. È la verità, una volta ho letto sul giornale, questa è una notizia vera, che un filippino si è fatto 13 operazioni per assomigliare a Superman, la prima cosa che ho pensato è stato Più veloce di luce tignole, più veloce di luce, no vedete non potete chiamarmi razzista, perché io non descrivino questa o quella categoria, a me state sul cazzo tutti. Maniera assolutamente trasversale, bianchi, neri, gli atei, i religiosi, gli oterosessuali, i filippini, tutti quanti. Non è razzismo odiare gli esseri umani, anzi in virtù del fatto che odio gli esseri umani voglio tanto bene ai francesi. No, scherzavo, voglio bene ai francesi perché non sono omofobo. E poi tra l'altro finiamola con questo stereotipo dei francesi gay, francesi omosessuali. Io parlo per esperienza personale, ragazzi, in Francia anche le donne lo prendono nel culo come niente, proprio come il burro. Io parlo per esperienza personale, ho anche lavorato su una nave da crociera francese, si riconoscono subito dalla bandiera bianca. A differenza delle navi italiane invece che si riconoscono dal fatto che stanno affondando. Una sera ero a tavola con questo mio caro amico, un attore francese, Gerard, che no, non è Depardieu, però anche lui è un grassone francese gonfio di merda. Gli stavo spiegando un paio di nozioni base di storia, per esempio se voi non dormite nelle caverne perché i nostri avi hanno avuto la gentilezza di civilizzarvi, a meno che tu non venga dal villaggio di Asterix, naturalmente, perché poi la storia è importante. Gerard, inspiegabilmente, si arrabbia, menome, 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 popopome, fefefe, voi non avete inventato tutto, cosa stai mangiando, pasta con ragù. Ragù è una parola francese, ma che cazzo vuol dire Gerard? Anche bidet è una parola francese. Infatti senza andare troppo lontano, prendiamo l'esempio della Scozia, paese nel quale non sono mai stati i nostri schiavi. È evidente che bevono ancora l'acqua dalle pozzanghere, no? No? Scherzavo, sappiamo tutti che in Scozia nessuno beve acqua. Io sono Giorgio Magri, spero di avervi fatto fare quattro risate e spero di rivedervi presto. Ciao.